Ieri ho acceso la tv russa e cosa ho visto? Adriano Cilentano Ma questo è Gianni Marandi Rosalba Zotti e Adriano Cilentano Tutti superstar della tv italiana Come mai sono qua? Di nuovo Adriano Cilentano Forse è il compleanno oggi È il telegiornale sul canale ufficiale di propaganda Canale Russia 1 Per 24 ore racconta come sono cattivi tutti i paesi occidentali Che l'Europa ci porta solo il cattivo Secondo canale dell'importanza E poi una grande parte del telegiornale dedicano a un cantante italiano Adriano Cilentano Quindi è europeo del paese dello noto Davvero la musica italiana è Cilentano Amano tanto in Russia